Buongiorno e ben ritrovati per questa nuova puntata di Sette in Punto, la nostra trasmissione che si occupa ogni giorno di attualità. Oggi abbiamo un progetto che ci porta un po' a spasso per le regioni italiane che ha il suo cuore in Lombardia. Si chiama A Scuola con i CART ed è un'interessante iniziativa che coinvolge gli istituti professionali e non solo. Ne parliamo con Piera Radaelli che è venuta a trovarci proprio dalla Lombardia, da Gorzola in particolare perché è l'ideatrice di questo progetto che ha il suo cuore in realtà però a Cinisello Balsamo a nord di Milano. Esatto. Buongiorno, grazie di avermi invitato e finalmente possiamo così presentare questo progetto che accoglie anche l'esigenza del nostro Ministero dell'Istruzione in quanto suggerisce di avere delle innovazioni in campo educativo e didattico. E qui siamo assolutamente in campo innovativo. Esatto, perché il progetto prevede una nuova forma di istruzione, di formazione, in quanto i ragazzi mettono in pratica tutto quello che studiano all'interno della scuola, nell'ambito professionale. È rivolto ai meccanici, in particolar modo ai meccanici d'auto, i quali proprio nel triennio svolgono un approfondito studio sul motore, quindi tutto quello che è il mondo dei motori e grazie a questo progetto riescono anche a mettere in pratica questo loro studio, questo loro modo di approfondire la tecnologia. Però è molto interessante e molto divertente perché poi alla fine questi ragazzi assemblano questi kart e poi alla fine fanno una bella gara, che è il cuore di questo progetto, che li mette un po' in competizione. Quindi non solo imparare bene quello che viene fatto a scuola, ma imparare meglio degli concorrenti. Indubbiamente sì. Infatti il progetto che si svolge una parte solo esclusivamente a scuola, successivamente, quindi verso la chiusura dell'anno, i ragazzi hanno già realizzato i loro kart, si sono create le loro squadre e quindi possono mettersi in competizione con altre scuole. Così è stato fatto anche quest'anno. I ragazzi, quelli migliori, quelli che hanno dato esiti positivi, sia comportamentali sia di tipo didattico, hanno realizzato il loro kart, quindi creato la squadra e quest'anno abbiamo potuto fare questa manifestazione a Lignano-Sabbiadoro, quindi in Friuli. Che bello, quindi siete venuti dalle nostre parti per concludere il progetto. È interessante perché sono molte le scuole che ogni anno si uniscono a questo progetto, che ha cambiato faccia un po' nel corso del tempo, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, non so se i telespettatori se lo ricordano, con il nome di Augustus, che era il nome del papà di Piera Radelli, che, orgoglioso delle figlie insegnanti, voleva che qualcosa succedesse nel rapporto con i ragazzi, nella formazione. Esatto, è nato proprio da questo mio desiderio, di ricordare mio padre, abbinandolo a questa opportunità che era stata data dal Ministero, con delle direttive nuove che andavano a modificare anche l'attività didattica. Allora, cominciamo da quello che succede all'interno delle classi, dove c'è evidentemente il percorso dei meccanici, è già tutto mirato ai motori, a come funzionano, così. Il CART ha qualcosa di particolare? Perché è stato scelto? Diciamo che è un mezzo che possono utilizzare anche i ragazzi che non hanno i 18 anni, di conseguenza è fattibile per le classi minori coinvolta, quindi è tutta la scuola, non soltanto i ragazzi dell'ultimo anno, cioè del quarto anno. E poi è quello anche meno costoso rispetto agli altri mezzi che potrebbero essere utilizzati. Voi tra l'altro avete trovato un supporto per fortuna da questo punto di vista. Sì, abbiamo avuto anche in questa manifestazione la presenza e l'approvazione della Praga Karting, che ci ha supportato parecchio in questo e la ringraziamo. Speriamo che ci siano anche altre persone che in un futuro possono credere in queste iniziative delle scuole. Ecco, questo della gara non è l'unico punto interessante di questo progetto, perché io so che i ragazzi poi sono stati anche spesso in visita all'interno di aziende che producono le migliori vetture italiane, quelle con il Cavallino Rosso per esempio. Esatto, tutte le scuole, sia quelle della Lombardia, sia quelle del Veneto, perché quest'anno c'era anche il Friuli naturalmente, fanno esperienza in questo senso. I ragazzi toccano con mano quello che è la realtà aziendale che produce queste meravigliose macchine che fanno invidia in tutto il mondo. Assolutamente, quindi sono stati alla Ferrari e poi dove anche? Dunque sono stati a vedere, sì, certamente Ferrari, poi BMW, perché alcune scuole sono state anche all'estero per visitare BMW, Mercedes e quindi penso che questo basti come esperienza. Anche perché noi parliamo di kart, quindi di mezzi meccanici in assoluto, ma ormai il mondo dell'automotive, come viene chiamato, lavora moltissimo anche con l'elettronica, quindi la sfida che questi ragazzi hanno di fronte è importante, devono anche imparare ad essere aperti a nuove frontiere, a vedere cose che si modificano, un po' come una volta il meccanico, più o meno, imparava quello e quello doveva fare. Adesso i meccanici hanno di fronte veramente un campo di esperienze molto vasto. Ecco, questo poi sarà il collega che seguirà dopo di me, a illustrare nel modo più dettagliato quello che è l'attività del meccanico del 2016, perché ovviamente la figura nel corso del tempo è cambiata notevolmente. Assolutamente, perché oggi dedichiamo questa puntata un po' a tutti i protagonisti di questo progetto, anche per dare voce e un po' di visibilità alle persone che si impegnano a fianco dei ragazzi. Quindi avremo l'ASP Mazzini che arriva proprio da Cinisello Balsamo e avremo l'ENAIP di Padova che ci viene a raccontare quello che è stato fatto sul versante Veneto, o lavori che procedono in maniera separata nelle diverse scuole e che poi appunto trovano nella fase finale invece il momento di raccordo e anche di gara. La gara è già stata, quindi chi ha vinto? No, tutte le squadre partecipanti hanno vinto qualcosa. Sì, perché sono state premiate la migliore squadra, la migliore organizzazione, il miglior tempo, la persona meno giovane, perché hanno gareggiato anche i professori naturalmente, quindi c'è stata una classifica anche per loro. Ma hanno gareggiato assieme agli studenti o con una gara separata? Hanno fatto delle gare diverse, insomma, le tempistiche loro ovviamente non erano quelle dei ragazzi giovanissimi, ecco. Volevo sottolineare una cosa, se posso. Prego. Il progetto è aperto all'Europa, perché certamente lo estenderemo notevolmente ancora sulla rete italiana nel nostro paese, però c'è già una scuola della Slovenia che è interessata a questo progetto, quindi si spera che l'anno prossimo sia fattibile una loro presenza per l'evento che andremo poi a fine giugno a progettare per l'anno prossimo. Quindi questo progetto nasce con pochi fondi a disposizione e tanta buona volontà da parte degli insegnanti e degli studenti? Sì, indubbiamente sì. I fondi nessuno ci sponsorizza, almeno a qualche azienda c'è stata, ci ha sponsorizzato nel passato, poi ultimamente si fa un po' più fatica. Quindi è proprio frutto dei sacrifici della scuola che ha deciso di portare avanti questa iniziativa. Però insomma, se qualche azienda dell'automobile, visto che ce ne sono tante anche qui, si vuole fare avanti, assolutamente c'è spazio, no? Indubbiamente accettiamo la partecipazione. Contare un po' come appunto si è sviluppato il progetto, quante scuole ha coinvolto, quali sono le regioni che sono state coinvolte? Allora, quest'anno le scuole coinvolte sono state sei delle tre regioni. Purtroppo il Friuli in Estremis per motivi tecnici non ha potuto gareggiare. Le squadre che si sono create sono state 14, quindi con un gruppo di lavoro notevole. Erano presenti molti ragazzi, ovviamente soprattutto la scuola di Cinisello aveva anche altre classi come spettatori e di conseguenza 120-130 ragazzi visti sulla pista, sia come spettatori sia come piloti, è stata una cosa molto entusiasmante. Quindi quanti kart sono stati realizzati? 15. Ah però? 15 in totale erano presenti. Ripeto, solo il Friuli ha avuto un problema tecnico, non ha potuto gareggiare gli altri 14. Tecnico alla vettura, però è come nelle gare normali, quando vediamo la domenica, io guardo il MotoGP ma che c'è chi guarda invece il Gran Premio di Formula 1, effettivamente. Esatto, è stato proprio così recentemente. Anche Valentino Rossi ha dovuto lasciare la moto a terra durante l'ultima gara, purtroppo. E lui è tra l'altro nato sui kart, perché la sua prima esperienza è stata proprio sui kart, perché sono tanti poi alla fine i piloti che vanno a competere anche in Formula 1 oppure in altri tipi di campionato come questo delle moto, che da piccoli erano appassionati, quindi chissà che oltre a qualche meccanico non nasca qualche appassionato di gare, anche vero e proprio. Abbiamo già dei ragazzi che gareggiano con i kart, naturalmente perché l'età non consente diversamente, e sono proiettati in un futuro di Formula 1, questo è il loro desiderio, poi vedremo se ci arriveranno. Hanno potuto mai stare magari a bordo del paddock, come si dice, dell'area dove vengono fatte le gare di Formula 1? Sì, sì, perché alcune scuole, soprattutto in Lombardia, riescono ad avere delle agevolazioni per presentare almeno le prove del Gran Premio di Monza. Ecco, quindi vedete ci sono anche parecchie aperture di questo progetto a diverse professioni che possono essere strettamente collegate con l'officina che abbiamo tutti in mente, ma anche assolutamente aprirsi a tantissimi altri settori. E questo è un po' anche il tratto caratteristico di come sta cambiando la scuola di formazione professionale, che sempre più offre possibilità diverse in ambito lavorativo. Una volta era considerato quasi un ripiego per i ragazzi che non avevano voglia di studiare, e adesso è altamente formativo per professioni anche nuove. Indubbiamente sì. Voglio aggiungere che soprattutto il settore della meccanica trova sbocco lavorativo molto, molto facilmente. Anche recentemente i nostri studenti che hanno terminato gli stage hanno la possibilità di avere dei contratti già con il primo di luglio. Quindi per noi è molto importante questo, l'inserimento nel mondo del lavoro, è come se fosse un passo, come dire, sequenziale proprio alla chiusura del percorso formativo. Ecco, noi ormai siamo arrivati alla fine dell'anno scolastico e le gare ci sono già state. Adesso cosa state preparando? State già preparando la prossima edizione? Allora, innanzitutto gli esami che saranno a breve. Questo è un po' lo paura. Ci sarà anche interrogazione sui cart. Senz'altro su tecnologia meccanica sarà argomento d'esame. E poi stiamo già pianificando una data per poterci incontrare fine giugno, primi di luglio, e per la pianificazione appunto dell'anno prossimo, 2016-17. Perché vorremmo già in anticipo dare la possibilità a quelle scuole che credono in questo progetto di poter pianificare economicamente la possibilità di intervenire. Assolutamente. Avete già un'idea di dove sarà la prossima finale? Dipende. Se sarà presente anche la Slovenia o qualche altro stato straniero, penso che l'Ignano possa essere ancora una base operativa, altrimenti decideremo comunemente con i colleghi delle altre scuole. Grazie a Piera Raddaelli che appunto ha ideato questo progetto. Adesso noi cerchiamo di approfondire un po' cosa fanno i ragazzi a scuola e in classe per arrivare poi a questa competizione con Omar Bernardi e Marcello Mariani della SP Mazzini. Tra pochissimo. Grazie. Grazie. Andiamo tra due minuti.